Applicare questo olio fatto a casa eliminerà tutte le rughe e macchie scure dal viso rapidamente. Le rughe e le macchie scure sono problemi della pelle molto scradevoli. Portano via il nostro aspetto giovanile e la bellezza. Possono verificarsi ovunque sui nostri vonti, intorno alla bocca, sulla fronte, intorno agli occhi. Tuttavia, puoi eliminare completamente queste rughe e macchie scure scradevoli sulla pelle semplicemente usando un semplice olio per il viso che ti daremo come segue. Può essere difficile da credere, ma questo olio per il viso farà davvero sparire completamente le rughe sul tuo viso, aiuta anche a rimuovere efficacemente le macchie scure. Una volta che hai usato questo metodo, non vorrai più usare prodotti di bellezza commerciali. Prima di mostrare come fare questo olio per il viso, speriamo che ci dica la tua età e la condizione delle rughe sulla tua pelle. Forniremo ricette di rimozione delle rughe giuste per la tua età e la tua condizione della pelle. Quindi fare clic su un pulsante iscriviti e attivare la campanella di notifica accanto, per non perdere i nostri prossimi video. Per fare questo olio per il viso, preparare una ciotola di vetro per contenere questi ingredienti necessari. In primo luogo, bisogna mescolare i due ingredienti più importanti di questo olio per il viso antirughe, olio di cocco e miele. Questi due ingredienti naturali sono molto efficaci e sicuri per eliminare le rughe e macchie scure. Mentre l'olio di cocco aumenta la produzione di collagene e incoraggia la rigenerazione delle cellule della pelle, il miele guarirà la pelle danneggiata. Questo alla fine abbianerà le rughe e le macchie scure e darà alla pelle un bagliore meraviglioso. Avrete bisogno di mescolare questi due ingredienti al tasso di un cucchiaino di miele e tre cucchiai di olio di cocco. Usare sempre miele grezzo e olio di cocco biologico poiché questi tipi sono migliori per la pelle. Successivamente mescolare questo olio di miscelazione con un altro ingrediente antirughe, vitamina E. La vitamina E idrata la pelle e reprime la manzana, che è una delle cause delle rughe. Contiene anche tocoferolo, che è un antiossidante che aiuta a ringiovanire la pelle opaca e invecchiata. Tagliare con cura una capsula di vitamina E e versare l'olio interno nella ciotola. Successivamente è necessario aggiungere un po' di glicerina per rendere la miscela perfetta. La glicerina è un ancon in odore e in colore che idrata lo strato superiore della pelle, che aiuta a ridurre la comparsa di rughe e mantiene la pelle morbida e liscia. Hai solo bisogno di aggiungere un cucchiaino di glicerina alla ciotola. Quindi aggiungere qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. Suggeriamo l'olio essenziale di Pompemmo, aiuta a prevenire l'invecchiamento estremamente efficace. Infine, se hai questo ingrediente, aggiungerlo nella ciotola per migliorare ulteriormente l'efficacia di questa ricetta. Antrimenti, basta mescolare gli ingredienti prima perché hai un'ottima ricetta per eliminare le rughe e macchie scure. Questo ingrediente è l'olio di germe di grano. Ha potenti proprietà antiossidanti che aiutano a ringiovanire la pelle, rallentare il processo di invecchiamento della pelle e aiutare la pelle liscia e luminosa. Questa ricetta, piani di olio di germe di grano, aggiungerli alla ciotola. Mescolare bene per ammangamare tutti gli ingredienti nella ciotola ad un composto omogeneo. Ora hai un prodotto perfetto per eliminare le rughe e macchie scure sul viso. Utilizzare la punta delle dita per prendere un po' di questa miscela e applicarla sul viso. E massaggiare delicatamente per 5 minuti. Questa miscela si assorbirà rapidamente nella pelle. Si nutrirà in profondità all'interno, rigenera e idrata, rendendo la pelle estremamente morbida, liscia e giovanile. L'uso regolare di questa maschera si vedrà la pelle luminosa, liscia e rughe e macchie scure scompariranno rapidamente.